Il terzo progetto, e mi fermo qui perché non ve li posso illustrare tutti, è una maniera molto interessante di sfruttare il grande muro di contenimento della ferrovia. L'idea è di creare dei nidi, come vedete lì, una sorta di nidi di cemento armato alla modalità di land art che però possono essere abitati e usati dal turismo giovanile. Come un turismo giovanile che può dormire una notte all'interno di questi elementi e allo stesso tempo caratterizzare in maniera interessante questo fronte mare. Sono tutti progetti molto economici ma che possono indicare una strada di appropriazione da parte delle persone della città dal basso, perché per noi la nostra idea è questa. operare in maniera minimale cercando di migliorare lo spazio urbano con un'intelligenza di progetto. Secondo noi questa è una strada possibile e praticabile. Non vi voglio annoiare più di tanto ma mi sembrava giusto segnalarvi alcune cose. Conoscete gli architetti, si sono segnalati, domandate a loro ulteriori dilucidazioni di quello che vi interessa. Tutto è pubblicato su internet e quindi questo video è su internet, su youtube, c'è un sito con tutto, basta mettere le parole chiavi, le trovate. Noi man mano inseriamo nuove cose. Qui ci sono molti amici però io mi fermo qui, mi sembrava giusto darvi un'idea di che cosa vedete e darei la parola direttamente al sindaco a questo punto. Sì, bene, bene. A basso costo è realizzabile soprattutto perché a volte alcune realizzazioni sembrano molto visti, però queste in realtà sembrano proprio realizzabili. Quindi sarà un compito nostro per cercare soprattutto in alcune sedi rendere questo paese un pochino più accogliente, più attraente soprattutto. E utilizzando, come si dice da questi progetti, soprattutto anche materiali del luogo. Quindi questo è un tratto essenziale dei progetti che ci vengono proposti. Noi sosteniamo appunto con energia queste iniziative e non posso che rinversare tutti coloro che hanno fatto questo lavoro in questi giorni, anche il lavoro di guardia stanotte soprattutto per le strutture che ci sono in piazza. Quindi è stato un grande sacrificio, non possiamo che essere grati di aver pensato il nostro paese. Pensato non soltanto come paese, perché è un territorio bellissimo, ma per renderlo ancora più bello. Perché è stato un regalo che ci hanno fatto i nostri anni e poi pensate proprio con le vostre idee di renderlo ancora più bello. Adesso vi ho già dato delle notizie sulla mostra qui all'interno, ci sposteremo dopo il rinfresco, ci sposteremo fuori per andare ad affrezzare le altre strutture. Grazie a tutti.